Sale la febbre in vista di domenica per il derby Giarre a Cireale. Al regionale, più che si attende, si spera nel pubblico delle grandi occasioni per sostenere i gialloblu in una sfida dal sapore intramontabile. Ieri in allenamento, mister Giancarlo Fichera ha provato tante soluzioni, agevolato dal fatto di avere tutti gli uomini a disposizione. La soluzione tattica di partenza resta il 4-2-3-1 e tanto dipenderà anche dalla scelta degli juniors. Ad esempio, gli ex Di Mauro e Santitto scalpitano. Sotto l'aspetto psicologico, la squadra viaggia ad alti livelli ed una bella prestazione, con tanto di risultato positivo domenica prossima, potrebbe aumentare nei gialloblu la consapevolezza nei propri mezzi che la sconfitta di Sant'Agata Militello non ha comunque smaltito.